Salve, oggi vi presentiamo un dispositivo medico chiamato RSQ-1 assolutamente innovativo, utilizzato nel campo dell'estetica e della tonificazione muscolare. Sono Riccardo Lazzari, coordinatore di FisioLab Roma, tuttora di fisioterapia e di fisioestetica. Per quanto riguarda la metodica RSQ-1, vi presentiamo alcuni esercizi applicati a una corrente elettrica. RSQ-1 si avvale di un doppio erogatore di corrente elettrica che si applica sulle parti del corpo che più si preferisce e che a volte sono molto difficili da definire, tonificare o da drenare. È una corrente elettrica molto particolare perché ha doppio impulso ed è caratteristica perché ha la possibilità di produrre delle contrazioni muscolari al secondo che arrivano fino ad un numero di circa 500 e sono molto superiori a un normale elettrostimulatore. La metodica utilizza, oltre che l'erogazione della corrente elettrica, anche il movimento dinamico proprio muscolare della persona e questo fa in modo che la metodica sia molto più efficace. Adesso andiamo ad applicare gli elettrodi sulla nostra modella Valeria. In questo caso intendiamo lavorare sulla parete addominale, muscoli addominali, dove andiamo a definire, a tonificare i vari gruppi muscolari. Applichiamo degli elettrodi sulla regione dei retti addominali e sulla regione dei muscoli obliqui addominali. Cosa facciamo? Andiamo a somministrare una corrente che è un'elettrosimulazione molto particolare, molto potente e efficace. In più chiediamo al paziente di associare un movimento di tonificazione attivo in modo che la metodica con questo doppio intervento ha un effetto più potente. Allora chiediamo a Valeria di fare un esercizio intanto di flessione in avanti. Io faccio partire la corrente, sentirai i muscoli contratti dalla corrente elettrica, fai un esercizio anche un pochettino più accentuato, sia laterale per i muscoli obliqui, sia in avanti per i muscoli retti. Che succede? Che nella regione dove ci sono gli elettrodi c'è una stimolazione del metabolismo locale che riguarda sia la microcircolazione che il drenaggio linfatico associato. Questo permette proprio al tessuto muscolare di potersi tonificare e rimodellare. Ovviamente l'esercizio poi diventa anche più difficile perché andiamo ad aumentare le correnti. La durata del ciclo è di circa 20 minuti per ogni gruppo muscolare. Dopo aver visto l'applicazione della metodica RSQ-1 sulla parete addominale dobbiamo dire che questa particolarità di elettrostimulatore permette di arrivare a punti di definizione muscolare a volte anche difficili. Parliamo dell'interno coscia, parliamo dei glutei. Parliamo dell'interno del braccio. Parliamo dell'interno coscia alto. Dove noi appliceremo gli elettrodi c'è una forte stimolazione del microcircolo locale, del drenaggio linfatico e un importante effetto lipolisi, bruciare i grassi proprio localmente sui tessuti stimolati dalla contrazione muscolare. La somministrazione di questa metodica è di circa 10 sedute a 30 minuti. è estremamente consigliato che oltre alle applicazioni di RSQ-1 ci sia un adeguato ed equilibrato regime alimentare accompagnato a un buon stile di vita e a dell'attività motoria anche blanda. Questo completamento di lavoro insieme a questa metodica danno dei risultati ottimi. Se volete approfondire la nostra metodica, io sono Riccardo Lazzari, mi trovo presso FisioLab Roma. Faremo una valutazione gratuita insieme. Prepareremo dei pacchetti personalizzati per voi. Chiamate, prendete un appuntamento, vi aspettiamo con piacere.